ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video molto molto particolare perché in collaborazione con il gruppo che ho su telegram per questo per questa collaborazione abbiamo deciso per questo mese di fare un trucco diciamo diretto sul natale però con una cosa molto particolare il grinch sapete tutti il film grinch che è molto diciamo conosciuto e ognuna di noi farà un trucco un make up diciamo ispirato a questo film e questa è la mia idea se volete vedere come ho utilizzato se volete vedere come ho un ospite nella stanza per questo mi sto un pochettino se volete vedere la realizzazione di questo make up e cosa ho utilizzato per fare questo make up guardate il video e noi ci vediamo alla fine per i saluti ciao un pochettino 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 un pochetto un pochetto un pochetto un pochettino 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.